Namaste, eccoci tornati alla nostra serie Take Your Power Back, riguadagna il tuo controllo e il tuo potere. Il principio di oggi è fondamentale perché recita, non devi chiedere il permesso per fare quello che è meglio per te. In qualsiasi momento della tua vita e decidi di mettere come priorità quello che ti fa stare bene, quello che è meglio per te, non devi assolutamente giustificarti, sentirti in colpa, sentire di dover dare delle spiegazioni, perché non è così che si fa, perché semplicemente ognuno di noi deve poter decidere per la sua vita, deve poter decidere per quello che ci fa stare meglio. Per cui ricorda, il principio di oggi è non chiedere il permesso per fare le cose che ti fanno stare bene. E dillo soprattutto a te stesso perché lo so quante volte ti senti in colpa perché stai facendo qualcosa che pensi sia egoistico, ma non è così. Ricorda, è fondamentale tornare a fare quello che ti piace davvero. Ci vediamo al prossimo video. Namaste.